Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia i tuoi vetri, mettiti comodo, internetali nei caffè. Internetologi, socio onorari, gruppo dei semplissi anonimi, l'intelligenza dei modelli, risposte facili, mila minuti. C'è il caso, 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 c'è il caso. C'è il caso, c'è il caso, c'è il caso. C'è il caso, 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 c'è il caso. C'è il caso, 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 c'è il caso. Grazie a tutti. Occidentali si armano, quando arrivo a sinistra, cado non voglio io, Occidentali si armano, Occidentali si armano, lasciami assigliare. Namaste! Ale! No! 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 la scimmia e il Gorilla Pub adesso ci sono venuti di pausa perché sennò si scioglie